A Bruxelles la crisi del debito preoccupa in un poco la Commissione, al punto da costringere il Presidente Barroso a prendere carta e penna e fare una dichiarazione ufficiale. È essenziale agire rapidamente, ha detto il Presidente, attuando tutto ciò che è stato deciso dai dirigenti dell'Auro a Euro e inviando un segnale senza ambiguità mostrando che la zona Euro risolverà la crisi sui debiti pubblici usando mezzi addetti alla gravità della situazione. Una situazione che non lascia certo ampio spazio di manovra visto i tassi di rendimento e le obbligazioni italiane e spagnole sono più del doppio rispetto ai bunde tedeschi. A Madrid intanto vacanze per il momento rinviate per il primo ministro Zapatero che a causa della crisi economica ha deciso di chiamare gli spagnoli alle urne a novembre e non più a marzo del 2012 secondo la scadenza naturale della legislatura. Intanto il Ministro delle Finanze Italiane Giulio Tremonti ha incontrato il Presidente di Eurogruppo Jean-Claude Trichet alla vigilia di una riunione della Banca Centrale Europea che da mesi ha arrestato il suo programma di acquisto di titoli di Stato nell'Aura Euro. Circolano poi voci di un nuovo rafforzamento del Fondo Anticrisi Europeo. Grazie. Grazie a tutti.